ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete letto dal titolo sono qua per farvi un video study with me ma prima di cominciare volevo lasciarvi qualche clip come promesso del mio costume di halloween siccome avevo detto che appunto ve lo facevo vedere nello scorso video e perciò vi lascio appunto le clip ok allora come avete visto ero vestita da piratessa in tema una mia amica e perché era una cosa molto facile da fare l'opzione erano un po' quella oppure la poliziotta però non mi sembrava tanto da halloween o molto carino c'era anche tipo la fata però anche quello non era molto da halloween quindi ho optato per piratessa e nulla fatemi sapere voi invece da cosa vi siete travestiti ad halloween vi aspetto giù appunto nei commenti e nulla direi di cominciare questo video se come sempre vi piacerà lasciate un like iscrivetevi al canale supportatemi e se vi va sempre seguitemi sui miei social che trovate sempre linkati giù nell'info box direi di cominciare con il video oggi è l'1 novembre appunto ieri sera c'è stato halloween poi questa mattina mi sono alzata mi sono preparata perché abbiamo i parenti a pranzo altro guardate che carine queste treccine qua ne ho fatte due ieri sera e ho messo tutti questi charm che ho comprato su amazon le avevo già fatte quest'estate in grecia e mi piacevano tantissimo e niente se volete trovarli iscrivetemi su insta o comunque li trovate su amazon comunque finché non arrivano gli ospiti ora mi metto un po' a studiare poi magari studio ancora questa sera poi continuerò questo video probabilmente domani tanto mi toccherà studiare tutta la settimana e niente cioè in realtà domani principalmente perché poi giovedì e venerdì sono tutto quanto al giorno all'università perciò non so bene che cosa riuscirò a fare detto molto sinceramente tra l'altro raga oggi c'è una giornata tristissima guardate proprio diluvia poi mi va straridere che io sono tutta carina sopra e poi sotto i pantaloni del pigiano che non mi faccio vedere perché perché no e nulla vando alle ciance devo fare scienza politica e informatica perché invece sociologia l'ho già fatta sono messa abbastanza bene con gli appunti e il primo esame appunto che avrò sarà scienza politica a dicembre tipo metà dicembre così e poi gli altri due saranno entrambi a gennaio se non sbaglio a dicembre 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 Questa cosa è troppo soddisfacente, giuro. Bene ragazzi, questo era il video. Spero che vi sia piaciuto, come sempre, non dimenticate di iscrivervi, di andarmi a seguire sugli altri miei social, se vi va. Io vi ricordo che i miei video escono ogni domenica e molto spesso, mercoledì alle 14, appunto, dipende un po' dalla scuola, come sono messa con gli appunti, eccetera. Però in linea di massima escono. E non la vi ricordo anche il mio codice sconto di ProSys, che potete utilizzare su tutto il sito, ed è valido per appunto un 10% di sconto. Quindi se vi va, fatemi sapere cosa comprate con il codice, scrivendomi magari su Insta o così, io vi guardo tutti. E nulla, vi mando un grande bacione e ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Ciao! Ciao!